Zip News Zip News.it Le notizie nel modo più veloce Zip News Buongiorno dalla redazione in studio Mariangela Salvalaggio Covid, anche il Piemonte è pronto a partire con la terza dose di vaccino per la fascia d'età 40-59 anni il via alla campagna di adesione dal 1 dicembre La regione ha deciso che non aspetterà 15 giorni dalla scadenza dei 6 mesi del vaccino ma darà la data a tutti nell'ultimo bollettino 423 nuovi casi e 4 morti E' tornato a casa a Verbania e sta bene il cestista del Legnano sparito da 3 giorni L'auto di Sebastiano Bianchi era stata ritrovata vicino al lago facendo temere il peggio Indagine congiunta della Guardia di Finanza di Cremona e di Novara che scopre una maxi truffa sul reddito di cittadinanza 9.000 i denunciati una banda di romeni ha truffato per 20 milioni di euro 16 le misure cautelari Aeroporti apre a Torino base Ryanair investiti 200 milioni di dollari 19 le nuove rotte dall'estate new entry per Agadir Billund e Zara sentiamo il presidente della regione Alberto Cirio Ci vuole tempo ad acquisire la fiducia da parte di una realtà così importante e quindi vuol dire che dietro l'apertura di questa base c'è davvero tanto lavoro, tanto impegno ci sono investimenti economici significativi che il rapporto ha fatto rischiamo come è giusto se sia nel suo ruolo imprenditoriale e che noi come istituzioni oggi abbiamo il dovere di accompagnare in un concetto un po' inaudiamo però giusto Il tennis mondiale a Torino con le ATP Finals il programma entra nel vivo stasera a cena di gara alle OGR il Village per i fan allestito in piazza San Carlo da domani ospiterà eventi dalle 10 alle 22 è tutto grazie per l'ascolto in regia Rosario Perez Zip News Zip News.it le notizie nel modo più veloce Zip News